Libertà! 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 Mascherine sventolate per aria e cori in giantiera libertà. In una parte dei lavoratori in crisi che manifestano a Venezia è l'esasperazione, chissà quanto a lungo repressa, di chi a causa della crisi del Covid non ha più di che vivere, a prendere il sopravvento, arrivando persino a negare la gravità della pandemia. Una manifestazione nata spontaneamente, sostanzialmente senza organizzatori ufficiali, quella di Venezia, una città che dopo decenni di politiche e di sviluppo economico monoturistico si ritrova letteralmente in ginocchio. Il gruppo di manifestanti che si forma a rialto a metà mattina si ingrossa velocemente e marcia compatto verso Caffarsetti, la sede principale del comune di Venezia, è rapidamente barricata dalle forze dell'ordine. La folla invoca a gran voce sindaco e assessori, vorrebbe che qualcuno scendesse giù. Tra chi manifesta qui c'è di tutto, gondolieri, guide turistiche, commercianti ambulanti, portabagagli, a testimonianza delle decine di migliaia di persone la cui sopravvivenza dipende da un turismo di massa che oggi non c'è più. Quello di Venezia è stato uno sviluppo economico disordinato che ha finito col generare categorie di lavoratori fragili, spesso senza tutela, abbandonati a se stessi, praticamente senza reddito, nel momento in cui il flusso di visitatori si è interrotto. Prima o poi passerà anche il Covid e Venezia tornerà il paese di Bengoti da sfruttare turisticamente in ogni suo metro quadrato, ma al momento la crisi sociale che si respira in città si sta avvicinando pericolosamente ai limiti di guardia. Grazie a tutti.